Ciao a tutti, io sono Max e benvenuti nel mio canale, il Pizzalingo. Oggi andremo a parlare del mio fornetto, visto le numerose richieste che mi sono arrivate in privato ho deciso di spiegarvi all'incirca come ho costruito il mio fornetto per pizza. Sigla! Come avevo anticipato andiamo a vedere il fornetto per pizza. Vi invito a iscrivervi al mio canale perché a voi non costa nulla ma per me è molto importante. Il mio fornetto per pizza in pratica non è altro che un barbecue da 47 cm di tipo economico. Io comunque vi lascio tutti i link in descrizione di Amazon per in caso voi vorreste bombare qualcosa. Io inizio subito col dirvi che non mi prendo nessuna responsabilità. Ognuno di voi sa perfettamente il grado di preparazione elettrica che ha. Io sono un perito elettrotecnico quindi per me è stata un'operazione abbastanza facile. Però io vi consiglio caldamente che se non avete dimistichezza con degli apparati elettrici o comunque delle nozioni base di elettrotecnica, assolutamente non fatelo. Perché è molto pericoloso. Quindi io non mi assumo nessuna responsabilità. Detto questo io vi spiego come ho fatto. Un barbecue come vi dicevo da 47 cm di tipo economico comprato su Amazon. In pratica io ho ricavato una nicchia all'interno, un doppio fondo dove l'ho rivestito di fibra ceramica che è simile alla lana di roccia però essendo fibra ceramica è molto molto più performante. Costo di più però ragazzi, secondo me va alla spesa. Anche perché ve ne servirà abbastanza. Perché dovete foderare, vedete, da qui, in pratica tutto questo di isolante. In più io ho preferito isolare anche tutta la parte sotto visto che andrà sopra al mobile della cucina e ovviamente raggiungerà la temperatura ingannale, ve lo garantisco. Per fare il doppio fondo tutto quello che sarebbe la camera di cottura deve essere in acciaio. Io ho usato un acciaio 316, ho usato un vassoio e una fascia per dolci. La fascia per dolci è la misura più grande che ho trovato. Il vassoio è sempre in acciaio ed è tutto in acciaio 316, come vi dicevo. Ma appunto da tutta la camera di cottura, quello che la pizza va a guardare, se potesse guardare in alto, deve essere in acciaio, mi raccomando, niente alluminio, niente cose strane. Come resistenza io ho usato una resistenza Ariston Smeg Beko da 2400W. Perché 2400W? Sono tantissimi, però ci arriveremo dopo. Il volume da riscaldare è molto ampio, è molto grande. Infatti la pietra misura, il biscotto refrattario misura 41 centimetri. Quindi qua ragazzi i problemi di fare pizza non li abbiamo assolutamente. In più con l'altezza della resistenza potremmo fare anche dei pan pizza, dei piccoli panini, dei pannozzi, come li volete chiamare. E non ci sarà nessun problema. Quindi abbiamo detto un vassoio in acciaio. Io questo non l'ho trovato su Amazon, anche perché sono dovuto andare al negozio fisico con il metro e andarmela a cercare, perché ovviamente è tutto autocostruito nell'arco di pochi giorni. Quindi il vassoio in acciaio, io l'ho preso dai cinesi, ho trovato questa, la misura era perfetta. La resistenza, che andrà fissata, che ha i suoi fissaggi, quindi bucando semplicemente con una punta da trappolo sottile. Forando per il passaggio cavi, che il passaggio cavi io l'ho fatto corrispondere, come vedete, dalla reazione del coperchio del barbecue. Questa è una molla che ho ricavato da un connettore per aria compressa che avevo nel garage. Quindi potete usare quello che volete. Serve solo per non far piegare il cavo che magari va a toccare e potrebbe elagerarsi e andare in cortocircuito. Come vedete, io ho sfruttato lo stesso passaggio, sia per la potenza, ovvero fase neutro e il cavo per il termostato, la sonda per la temperatura. Ho sfruttato il stesso passaggio. Vi ricordo che dentro, tra il vassoio e la scocca esterna del barbecue, è tutto isolato, tutto con il materiale isolante di lana ceramica, di fibra ceramica. Per tenere tutto ben pressato, tutto ben incollato al barbecue, io ho forato al centro e ho fatto una vite passante. Vedete qua? Una vite passante. Ovviamente il manico lo potete smontare perché andate bene a fare il vostro montaggio. e l'ho fissato semplicemente con la vite. Quindi se un domani la resistenza si danneggia o comunque devo fare lavori di manutenzione che in due anni, che io lo sto usando, due anni e mezzo circa, che lo sto usando ho fatto pochissima manutenzione, mi si essere solo staccato il filo, il cavo della resistenza perché il faston non era proprio adeguato, è molto facile l'operazione, basta svitare e si scoppia tutto e si può perfettamente lavorare. Importantissimo, per i faston nel suo Amazon costano lira di Dio, cioè non dovete prendere quelli economici, perché quelli economici sono di un lamierino zincato, comunque si sciolgono perché la resistenza non è che fa 500 gradi, la resistenza fa 1000-1100 gradi, quindi i faston devono essere in acciaio e su Amazon costano un fottio, non vi lascio i link perché costano tantissimo, dovete andare da un negozio di elettronica del vostro paese, che ce ne saranno sicuramente, e dovete comprare i faston in acciaio, gli dite guarda mi serve perché lo devo mettere sulla resistenza del forno di casa, loro lo sanno e devono essere in acciaio, mi raccomando. Ovviamente vi consiglio anche la pinza che mi patisce per poter stringere il faston, se non ce l'avete potete usare una pinza come alcuni fanno, io ce la pi patisce perché ricordo solo nell'elettrotecnico, quindi so perfettamente cosa sto facendo. Andiamo a parlare, allora, per la pupola mi sembra, ah, la fascia, come ho fissato la fascia? La fascia è stata implementata, è stata modificata più volte nell'ultimo periodo perché avevo implementato il biscotto girevole, perché mi invitava appunto di andare a girare la pizza, perché ovviamente la resistenza non scalda perfettamente in modo circolare. Quindi la fascia, io ho bucato e ho messo quattro viti, quattro bulloni, quindi la fascia è proprio al limite, se volete dopo vi lascio anche la distanza tra la resistenza e il biscotto, così se volete copiare perfettamente la disposizione, comunque io vi consiglio sempre di fare un sistema che potete regolare, perché essendo una cosa artigianale non è che perfettamente vi verrà uguale. La parte della resistenza, ho notato che durante l'utilizzo, dopo pochi utilizzi, tendeva a piegarsi, perché con il peso appunto si piegava, perché queste resistenze sono concepite per rimanere in verticale per il forno ventilato. Quindi cosa ho pensato? Prendo una barra in acciaio, o sei di ferro, comunque spazzolatela, bruciatela con un cannello, secciate il trattamento sopra, superficiale, in modo da buttare via il trattamento, spazzolatela bene, in modo che resti solo il ferro, o avete una barra d'acciaio, meglio, io non ce l'avevo, ecco qua, e ho messo semplicemente una barra che tiene ferma la resistenza, semplicissimo. Per la sonda, se vicini ti faccio vedere, per la sonda appunto dal passaggio cavi della resistenza insieme, dietro la parte dell'isolamento dove sta più fresca, ho fatto passare il cavo della sonda, e incastrato in maniera molto casereccia, il cavetto sotto all'intercapedine creata dalla fascia e il barbecue. Quindi è perfettamente mobile, questo mi serve solo per una stima della temperatura e poter regolare il PID per la temperatura della camera di cottura. Anche se ho visto che ci azzecca molto, è molto 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 vicino, perché io la prova, dopo la faccio, dopo la prova la faccio con il pirometro laser, misurando la temperatura del biscotto. Quindi se io con il PID mi trovo che la camera di cottura ha 500 gradi, io vado a guardare con il pirometro laser, il biscotto effettivamente ha raggiunto i 500 gradi. Anche perché questa sonda, quando vado a chiudere il coperchio, va ad appoggiare proprio sopra alla pietra refrataria, al biscotto. Quindi la temperatura che mi rileva il PID è molto vicina a quella della pietra. Ecco, la resistenza, la distanza tra la resistenza e il biscotto, nel mio caso, è esattamente di 8 centimetri. Voi potete anche variarla se non vi soddisfa il risultato. Vi spiego brevemente cosa c'è dentro di questa scatola, non sto neanche ad aprirla. In pratica, l'alimentazione passa e va a direttamente alimentare il, come avete visto, va a alimentare direttamente il mio PID, il mio PID REX. Ovviamente, passa dall'uscita del PID, va a relae, allo stato solido, che è compreso nel kit, dove andate a mettere anche il dissipatore per il relè solido, a stato solido, perché altrimenti muore, si brucia oltre a una certa temperatura e fidatevi che scalda. Quindi, con il dissipatore dentro a questa scatolina non ho avuto problemi. Però, il dissipatore è obbligatorio. Entra perfettamente, proprio è perfetto, le misure sono esatte, volendo può entrare anche questa, ma ho preferito lasciarla fuori, appunto, perché ho visto che scaldava parecchio. Dopodiché, il relè allo stato solido, l'uscita della corrente, ovvero, io interrotto una fase dal relè, mi va all'interruttore della potenza, che va direttamente alla resistenza dopo. Ovviamente, il neutro è in comune, ripeto, non esiste fase neutro, per convenzione vi chiamo fase neutro. Poi, dal PID esce direttamente del cavo, della sonda, una sonda K, nel mio caso, il PID Rex ho dovuto impostarlo, per far leggere una temperatura superiore ai 400 gradi, ma è facilissimo, su YouTube ci sono migliaia di video che spiegano come settarlo, è molto facile. Vi consiglio anche di fare un autotuning per la vostra resistenza, trovate sempre anche quello su YouTube. se avete difficoltà a trovarlo o non sono abbastanza chiari, magari nei commenti mi scrivete e vi farò un video dedicato al autotuning, al settaggio della termocoppia per far superare i 400 gradi. Ovviamente, per andare a impostare i gradi, premete, poi vi muovete dentro il menu, esempio, questo, voglio 400 gradi voglio 450 e potete andare a impostarvi i vostri gradi. Io lo lascio a 500 gradi o a 480, dipende dal tipo di pizza che sono andato a fare. Sopra vi dirà la temperatura reale in quel momento, dopodiché la rotazione, appunto, ho interrotto la fase della rotazione con un altro interruttore. Tutti i passaggi dei cavi sono lasciati fatti con dei passacavi che ci passano dei PG-16 e dei PG-11. Andiamo a parlare della base. Mi poso questo, lo truco in mano mezz'ora, quindi, ragazzi, è molto, molto leggero. Il pesante è questo perché il biscotto pesa almeno peserà 5 kg. La base, come vi dicevo, è tutta piena di fibra ceramica, appunto, per isolare dal piano di lavoro che dopo lo può andare ad appoggiare. Io lo appoggio, come vedete nei miei video, nel piano di legno dell'IKEA. La scatola di derivazione. La scatola di derivazione, ragazzi, se prendete la più grande possibile, ovviamente, secondo i vostri spazi che avete a casa, io comunque vi lascio il link su Amazon di questa scatola di queste dimensioni, dove entrano comodamente un interruttore per la potenza, cioè per mandare la corrente alla resistenza. Un attimo, lo accendiamo così vediamo direttamente come funziona. Si fa il check. Io ho usato un PID Rex C100 che si trovano anche le istruzioni di montaggio su YouTube volendo. Io non ve le lascio perché ragazzi, io vi raccomando assolutamente non fatele queste robe perché è pericoloso. Se poi uno le sa fare che dice ma io le so fare, non ha neanche bisogno dello schema perché le sa fare. Allora, come dicevo, la potenza. Io accendendo la potenza in automatico da 23 lui piano piano va a fare salire la resistenza. Lo spengo se no mi si scioglie il cavolo. Dopo, successivamente, ho implementato la rotazione, la rotazione della pietra. Come ho fatto la rotazione? Siccome io già avevo fatto l'impianto, come ho fatto la rotazione? Ho preso il cavo perché io già l'impianto l'avevo fatto mi sono fatto un impianto parallelo solo per alimentare il motorino del girarrosto della pietra. Io ho utilizzato un connettore ILME che non vi lascio in descrizione o meglio ve lo lascio però non l'ho acquistato lì perché costa tantissimo basta che andate in un negozio di materiale elettrico lo trovate. È un connettore ILME a quattro poli dove andate a mettere l'alimentazione più la fase neutro non esiste fase neutro nella corrente alternata però per convenzione le chiamiamo fase neutro è la terra. Quindi vi resterà un connettore scoperto. Ovviamente il connettore femmina lo potete mettere dietro se vediamo se riesco a girarlo. ecco qua il connettore femmina io ho fatto il buco dietro al barbecue ho fatto il buco dietro al barbecue per poter innestare il connettore della rotazione ha un senso obbligato quindi non potete sbagliare assolutamente con questo tipo di connettori è anche sovradimensionato perché lui potrebbe resistere a 10A però il motorino assorbirà 1A a farla grande neanche con il passare del tempo ultimamente nell'ultima settimana ho implementato anche un variatore di tensione questo l'ho comprato su Amazon però ho fatto l'errore aspetta che sta con la corrente non vorrei mai che si accendesse la resistenza per sbaglio perché non lo vede mi fonde il tavolo questo variatore di tensione lui lo danno con i dati di targa da 4000W sarebbe molto abbondante per la mia resistenza da 2400W però ho notato che scalda fuori misura quindi vi lascio il link nella descrizione del variatore di voltaggio con la ventola integrata che è una ventolina sopra in modo che riesce a raffreddare perché scalda tanto ragazzi io infatti metto il ventilatore sopra questo variatore cosa mi serve mi serve nel caso in cui vado a fare delle pizze più alte o dei panozi paipan pizza per limitare appunto la temperatura massima della resistenza per evitare che proprio carbonizza tutto allora io vado a metterlo tipo quando faccio una pizza bella alta contemporanea lo vado a mettere all'80% e riesco a ottenere ottimi risultati potete scendere anche al 50% oltre a un 0% perché la resistenza va completamente a spegnersi poca spesa tanta resa riguardo ai cablaggi i cavi i cavi devono essere soprattutto quello dell'alimentazione deve essere da 2,5 mm quadrati io ho usato un cavo siliconico quello degli elettrodomestici che è antipiega diciamo quindi dura parecchio una spina da 16A quella grande non quella piccola perché quella è 10A e si scioglie in più tutto il cavo necessario per arrivare al coperchio del forno io ho fatto che da circa 20-30 cm dalla resistenza ho usato un cavo per altre temperature vi lascio il link in descrizione in pratica non altro non è un cavo da 2,5 mm con il rivestimento in fibra di vetro che in nifugo dovrebbe durare di più io finora non ho mai avuto problemi quindi vuol dire che la strada è stata quella giusta io ho usato come vi dicevo prima un unico passaggio per appunto la potenza e la la sonda di temperatura la spina ha un cavo a sé e poi ho implementato appunto il cavo della rotazione che questo può essere anche un cavo da un millimetro non ha nessun problema perché l'assorbimento del girarrosto del motorino del girarrosto è irrisorio io avevo un cavo da 1,5 ho usato un cavo da un millimetro e mezzo il motorino io l'ho fissato nella griglia in dotazione del barbecue originario che avevo comprato perché questo barbecue è nuovo e non l'ho mai usato l'ho usato solo per fare questo esperimento la griglia sotto quella dove andrebbero i carboni quella è in acciaio che ha sotto quella più bassa la griglia bassa lì mi sono ricavato delle staffette con delle viti e ho sagomato un lamierino e ho fissato il motorino del girarrosto sulla base dopo ho fatto una prolunga con un sistema ragazzi quello che dovete inventare voi è difficile da spiegare io ho preso l'esagono del io ho preso l'esagono che esce dall'esagono femmina che esce dal motorino del girarrosto ho fatto un taglio in modo che si potesse leggermente aprire dopo come albero di trasmissione ho usato una barra filettata ho forato la barra filettata e ho fatto passare una spina o una vite in modo che quando lo vado a mettere dentro all'esagono femmina del girarrosto si crea un attacco a baionetta e riesce a fare a trasmettere il moto verso l'alto siccome il biscotto pesa tantissimo avevo paura che il motorino del girarrosto ne soffrisse tanto allora cosa ho fatto alla base ecco perché c'è anche un po' di spazio ho messo un cuscinetto ricavato appunto sempre da materiale di recupero un cuscinetto per poter far ruotare la pietra provate magari non serve sono solo la mia fissazione ce l'avevo questo cuscinetto ho fatto questa prova per poter fare il piatto girevole il piatto il biscotto è solamente appoggiato con il suo peso non si muove è sempre lì quindi andiamo a vedere la rotazione la rotazione appunto è comandata indipendentemente appunto per prendere la pizza per mettere la pizza dentro il forno è indipendente penso di aver elencato tutte le particolarità e le funzioni di questo fornetto se avete qualche domanda contattatemi sotto nei commenti che io posso aiutarvi e magari togliere i dubbi anche ad altre persone comunque ragazzi non fatelo è pericoloso non fate come gli altri youtube è facile prendete la ciotola per il cane no ragazzi si muore ragazzi si brucia a casa non fatelo poi se siete pazzi come me volete che la casa si brucia fatemi una cura vedete i risultati negli altri video dove ci sono tutte le altre pizze che ho fatto con questo fornetto mi raccomando ragazzi il 96% di voi che guardano i miei video non sono iscritti iscrivetevi non vi costa nulla assolutamente nulla eccoci alla fine di questo lungo video mi dispiace però ho dovuto essere alquanto specifico nel spiegare alcune robe mi raccomando se vi è piaciuto mettete mi piace commentate se avete qualche dubbio e iscrivetevi al canale magari non si sa mai potrò anche regenzirvi e spiegarvi appunto la tecnica dei materiali che hanno utilizzato i costruttori di altri forni non si sa mai visto che ho una certa esperienza con i forni ragazzi alla prossima